Do subito il benvenuto a Giancarlo Dall'Aglio, Comodities Trading. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, Alexandra. Un saluto a tutti. Allora, partiamo naturalmente dalla situazione con le materie. Prima abbiamo visto, fra le altre cose, inflazione record negli Stati Uniti a causa del prezzo dell'energia. Abbiamo visto inflazione dell'eurozona al 5% a causa del prezzo dell'energia. Nel frattempo il petrolio lo vedo abbondantemente sopra gli 80 dollari. Stiamo parlando di entrambi i benchmark. Quali sono i tuoi target di breve e medio termine? Partiamo col dire che il rally del petrolio è stato continuativo ultimamente. E' andato di pari passo con i dati americani che hanno visto una costante discesa delle scorte. che sono ai minimi dal 2019. E inoltre è stato agevolato non solo dalla domanda che rimane forte, perché evidentemente la variante Omicron alla fine è meno pericolosa rispetto alle iniziali preoccupazioni annunciate dall'OMS, ma anche dall'atteggiamento dell'OPEC che aumenta la produzione, rimane con l'aumento della produzione di 400 mila barili, non l'ha aumentata. Dice che alcuni paesi hanno difficoltà nell'aumentare la produzione e anzi ha dato anche un tempo dilazionato per adeguarsi rispetto a questa produzione che dovrebbe prima o poi aumentare. E' evidente che l'OPEC ci via con i piedi di piombo e vuole prima vedere cosa succede. Di sicuro se la domanda riuscirà a resistere in un inizio d'anno in cui normalmente è piuttosto bassa, ricordiamo che il petrolio ha il minimo della domanda fra l'ultimo trimestre dell'anno e l'inizio dell'anno successivo, bene, si arriverà all'estate con delle scorte abbastanza esigue negli Stati Uniti, visto e considerato che i produttori non hanno molta intenzione di andare ad aprire ulteriori impianti e aumentarla massivamente. Basti pensare che l'ultima rilevazione del 2021 ci racconta di 11 milioni e 550 mila barili prodotti negli Stati Uniti, all'inizio del 2020 eravamo a 13 milioni e 2. La proiezione di aumento arriva intorno ai 12 milioni e 2, quindi siamo decisamente al di sotto rispetto alla pre-pandemia. La domanda però, ripeto, rimane forte ed ecco spiegato il prezzo che continua a salire. Tra l'altro abbiamo anche un'altra piccola discrepanza che vorrei segnalare, e cioè il paniere dei principali titoli petroliferi presenti sul mercato è a sconto rispetto al prezzo del greggio. Stai parlando degli states, dei titoli states o titoli piazza affari? No, 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 titoli globali, naturalmente, soprattutto parliamo di quelli americani e canadesi. Adesso vado a far vedere l'ex OP nel frattempo. Ok, sconterebbe un petrolio all'incirca ancora a 63 dollari, quindi anche sotto quel profilo di strada ce ne sarebbe da fare, soprattutto per i più sottovalutati. Le banche d'affari continuano a parlare di target decisamente superiori rispetto ai prezzi attuali, da raggiungere nel 2022 e non escluderei che questo possa succedere. E cioè potrebbe essere l'anno, se la situazione non si modifichi, se non ci sono crolli economici particolari, potrebbe essere l'anno in cui si raggiungono nuovamente i 100 dollari dopo tanto tempo. 84-85 è comunque una resistenza importante attualmente, corrisponde ai massimi del mese di ottobre, e quindi se il petrolio ci arriva in volata, possibili prese di profitto e soprattutto una ripresa di fiato prima di lanciare il prossimo attacco, che probabilmente potrebbe avvenire nei prossimi mesi, insomma, quando si accumuleranno scorte per l'estate. E dunque i 100 dollari per barile non sembrano così impossibili a questo punto. Questo è chiaro. Stavo facendo vedere il United States All Fund, che cede lo 0,42, e l'ex OP, che è l'ETF, Oil & Gas o l'S&P 500, anche oggi in calo dell'1,06%. Hai perfettamente ragione. I titoli del comparto Energy, stiamo parlando degli Stati Uniti attualmente, sono tutti abbondantemente sotto la parità. Credo situazione simile anche a Piazza Affari. Eini, Tenaris e Saipen ben al di sotto della parità. Però erano dei grandi campioni verso la fine del 2021. L'Energy era proprio quello dei settori che ha guadagnato di più, proprio grazie ovviamente all'andamento del petrolio. Ecco, prima di andare a parlare delle dinamiche del gas naturale, che sono senza dubbio molto interessanti, volevo fare il punto sui metalli preziosi. L'oro sta iniziando a comportarsi da hedge o meno? Questa è una bella domanda. Tra l'altro l'ho ricevuto diverse volte in questi giorni, anche via mail. E cioè, secondo me in questo momento è difficile decifrare l'oro, perché vi sono due forze importanti contrapposte. Dal lato del rialzo pesa l'inflazione, che comunque morde, e lo ha detto anche Power nell'ultima sua audizione recentissimamente alla Commissione Economica Congiunta. Ci sarà un probabilissimo triplo aumento dei tassi di interesse, anche se minimo, nel 2022. E dall'altro lato delle forze ribassiste, che corrispondono alla possibilità che il dollaro si rafforzi, e in questo momento il dollaro ci sta dicendo il contrario, perché è in indebolimento, e poi i rendimenti obbligazionali, perché abbiamo un trentennale e anche un decennale americano che hanno corso molto a livello di rendimenti ultimamente, e potrebbero continuare a correre, qualora l'inflazione rimanga elevata. Gli elementi dei rendimenti e di un eventuale rafforzamento del dollaro vanno nella direzione di un ribasso dell'oro, che però rimane bene inflazione, anti-inflazione per eccellenza, e quindi ecco le due forze contrapposte che stanno portando ad un trading range sempre più stretto sul metallo giallo. Quindi nel momento in cui l'oro romperà da uno dei due lati quello che sembra essere un triangolo, che ormai sta arrivando al punto di rottura, lì probabilmente potrebbe prendere una direzione precisa. L'argento si sta comportando esattamente come l'oro e quindi sta trascurando il suo ruolo di metallo industriale anche in occasione di giornate negative per le borse. Quindi abbiamo questo tipo di scenario, direi che gli operatori non stanno prendendo posizione in questo momento, aspettando appunto l'esito di questa eventuale rottura. Allora, andiamo a vedere rapidamente il Nature Gas. Vorrei dare un po' di contesto ai nostri telespettatori per tutto ciò che è accaduto nelle ultime giornate, però abbiamo parlato alla lunga naturalmente sulle fonti. Vi faccio vedere il TTF che oggi torna a guadagnare terreno, precisamente quasi sei punti percentuali. il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Fatih Birol ha accusato la Russia di aver strozzato le forniture di gas all'Europa in un momento di forti tensioni geopolitici. Secondo appunto l'EFT, il turco Fatih Birol, direttore esecutivo dell'IEA, a nome dell'organizzazione dell'Iguidata, ha lanciato pesanti accusi alla Russia che starebbe trattenendo almeno un terzo del gas che potrebbe inviare in Europa. Crediamo che ci siano forti elementi di tensione nel mercato europeo del gas a causa del comportamento della Russia. Ha dichiarato proprio ieri Birol, scatenando ovviamente un nuovo conflitto e dunque lui dice che il problema, la crisi energetica a cui stiamo assistendo in Europa è a causa della Russia, in particolar modo di Gazprom. Sei d'accordo o meno? Assolutamente no, Alexander. Ritengo che queste siano dichiarazioni totalmente strumentali. D'altra parte qui in Europa stiamo assistendo a un atteggiamento della Commissione europea che va in tutt'altra direzione. Ci sono dichiarazioni di appena due giorni fa di un esponente della Commissione europea, non ricordo il nome, che ha dichiarato che i prezzi dell'energia devono rimanere alti perché questo giova alla transizione ecologica. Una dichiarazione di questo genere va esattamente nel tipo di processo a cui stiamo assistendo. D'altra parte le tensioni non mancano anche per il continuo ritardo nell'approvazione della Nord Stream 2 da parte della Germania. Insomma ci sono diversi elementi che mi fanno pensare che sia strumentale questo attacco alla Russia, ma non vi sorprende perché ovviamente questa è politica che viene fatta da sempre e quindi ci sono anche questi scontri verbali. Il prezzo del TTF tuttavia si comporta fra virgolette bene, anche se è molto più elevato. Un po' volatile, come mai? Beh, è sempre volatile perché dipende dall'utilizzo del gas naturale. Se noi andiamo a vedere il comportamento del TTF e lo confrontiamo con il prezzo dell'energia elettrica per kilowattore, vediamo che ci sono comportamenti diversi perché in Europa, soprattutto al Nord, si sfruttano già gli impianti eolici, tant'è che per esempio il prezzo dell'energia in Germania varia molto, ancora più di quello del TTF, a seconda delle giornate. Se c'è molto vento, i prezzi scendono, in assenza di vento si va addirittura sopra i 300 euro per megawattore e la cartina dell'Europa si colora i colori scuri, addirittura neri, quando si va in sofferenza. Allora, giusto per capirci, da ora in avanti rimaniamo in questo range, c'è 80-100 euro a megawatt l'ora o ci sono anche altre possibilità al di sotto o al di sopra di questo range? Beh, la variabile sicuramente è anche nel meteo, come lo è negli Stati Uniti. Ondate di freddo intenso in Europa provocano un maggiore utilizzo degli impianti di riscaldamento, quindi un maggiore utilizzo di elettricità o un maggiore utilizzo delle centrali. Ricordiamo che la Germania sta anche abbandonando il nucleare, c'è stato un tiro e molla, molte forze politiche spingono invece per l'adozione del nucleare, ma intanto si perde tempo e ogni ora che si perde, naturalmente danneggia anche le imprese e i privati che devono affrontare una spesa di bollette elettriche notevole. Quali sono le materie prime o qualche magari un po' più particolare che stai seguendo e ci vorresti far presente? Guarda, proprio sul gas americano questa volta abbiamo avuto un movimento importante nei giorni scorsi ed è stato toccato il precedente supporto, cioè l'area su febbraio di 4,750 dollari, leggermente superata nella giornata di ieri. Come dicevo prima, anche questa volta dipende dal meteo perché c'era un fronte freddo soprattutto nella parte est degli Stati Uniti mentre nella parte ovest c'è una cosiddetta cresta a sud-ovest anticiclonica. Quindi insomma c'è un continuo scontro e gli operatori di mercato cambiano idea molto rapidamente. Oggi invece, forte ribasso, pochi minuti fa, inizio di collegamento, è uscito il dato settimanale sulle scorte di natural gas, 178 billion il risultato, meno 178 billion, si aspettava meno 173, ma vedo che più o meno i prezzi, anzi i prezzi hanno accelerato ancora al ribasso, quindi prese di profitto una volta toccato quella resistenza. Le scorte però sono abbastanza ridotte se pensiamo a un utilizzo strutturale maggiore di gas naturale. Lo abbiamo visto anche dalle quotazioni per esempio asiatiche di gas naturale che vengono quasi mai citate, l'esportazione dagli Stati Uniti verso l'Asia, molto importante durante il 2021 e adesso gli Stati Uniti hanno cominciato ad esportare in maniera notevole anche verso l'Europa. Quindi il gas naturale americano, il prezzo può essere influenzato sicuramente anche da questi elementi, nonostante al momento si tratti di un 15% della produzione americana. Infatti sto facendo vedere quello che appena hai sottolineato, 179 BCF, chiedo scusa ai nostri telespedatori perché abbiamo avuto qualche problema di rette nel frattempo e stiamo vedendo un deterioramento netto soprattutto rispetto ai dati precedenti. Allora, intanto ti leggo la domanda di un nostro telespedatore Pier Ambrogio perché è uscito con un ultra bullish call nei confronti del loro di lungo termine. Ci scrive Pier Ambrogio Cillo io vedo l'oro a 4.300 dollari nel 2025 e bene prezioso per pochi alletti nella prossima deflazione occidentale. Un commento da questa dichiarazione ti sembra ragionevole o meno? Beh, questi target ovviamente vanno presi sempre con le molle perché insomma c'era un signore che si chiamava Keynes che diceva nel lungo periodo saremo tutti morti. Quindi parliamo del 2025. Mi auguro ovviamente di essere ancora qui, di essere tutti ancora qui. Ce l'auguriamo un po' tutti. Drammatizzando ovviamente. Ho utilizzato questo tipo di raffronto. Però effettivamente nella prossima deflazione perché no, insomma potremmo vedere il prezzo dell'oro salire in maniera importante. Però ricordo che sono 15 anni che ci sono tanti analisti che danno target sull'oro elevatissimi e per il momento i prezzi sono sempre rimasti fra virgolette sottovalutati. Se da un lato voglio sempre avere l'oro in portafoglio sulle discese, da un altro lato ricordo però che le banche centrali remano contro. E quando le banche centrali remano contro, soprattutto la Fed, sono dolori. Ricordiamo quello che è successo dopo i massimi del 2011, ribassi continuativi dell'oro, i famosi flash crash che arrivavano all'improvviso, i cospirazionisti dicono che c'era sempre lo zampino delle banche centrali che non vogliono assolutamente il prezzo dell'oro troppo alto perché creerebbe inquietudine e anche dopo il massimo del 2020 che è stato superiore a quello del 2011, lento degrado delle quotazioni. Siamo sicuramente su livelli molto più elevati rispetto agli anni scorsi, le motivazioni ci sono, quindi auguro naturalmente al nostro amico di far centro perché sarebbe anche un bellissimo guadaglio. Ultimissima domanda prima di lasciarci. Un parere sul rame, vedo oggi in calo dello 0,73% a 4,51 dollari. Ecco, un tuo parere sul rame prima di andare in pausa obbricità? Fino a un po' di tempo fa ero piuttosto convinto del rialzo del rame, stiamo parlando di novembre. Ecco, sicuramente il rame ha rotto dei livelli importanti tecnicamente perché è andato a rompere un trading range che resisteva da diversi mesi. L'incognita sul rame può essere la Cina che è sempre poco trasparente e su cui si sa poco per quanto riguarda il vero e il reale andamento economico. Al di là dell'incognita Cina direi che il rame è una delle candidate ad andare forte nel 2022 se non altro per la forte domanda che ci sarà dagli Stati Uniti, per esempio, con la riforma delle infrastrutture. Grazie mille. A Giancarlo Dallaglio, Comori di Strading, grazie per essere stato con noi alla prossima occasione. Grazie a tutti voi, un saluto. Comori di Stati Uniti 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 Comori di Stati Uniti